Triburo Sonera, amiche amici del Marietto, buon 18 di novembre a tutti e a tutti e bentornate e bentornate a questo nuovo appuntamento con il vostro Marietto. Milanista, oggi si ritorna finalmente a parlare di calcio dopo quella parentesi aperta ieri che immagino molti di voi, anzi la maggior parte, quasi tutti, hanno condiviso il mio pensiero, il mio sfogo e chi doveva uscirse ne siano uscito dal canale, ogni tanto bisogna fare quei video anche per fare un po' di pulizia di certe teste. Detto questo oggi voglio salutare da subito Sergio Marcucci, un saluto carissimo così come a un grande, un grandissimo mio seguitore da diverso tempo, tifoso della Roma, Pupone, ciao carissimo e grazie, grazie ogni giorno per il tuo sostegno, un saluto alla vera Roma, quella giallorossa da parte mia. Detto questo perché è come l'Inter, noi siamo il Milan, la squadra di Milano, la Roma è la squadra di Roma, poi c'è l'Interland che è la squadra dell'Interland milanese, neanche la seconda squadra di Milano e la Lazio che è la squadra diciamo dei Burini, la squadra regionale di quella regione là, ma la Roma, la Roma capitale per me resta sempre quella giallorossa, quindi un saluto anche a te carissimo Pupone. Poi, visto che ho l'altro canale che è bloccato e censurato, vi invito a entrare perlomeno nel Marietto Milanista Facebook, mi raccomando, il gruppo sta crescendo, siamo già più di 220 nel gruppo, sono contentissimo perché davvero una bellissima tribù a tutti i livelli si sta creando e dopodiché anche invitarvi a seguirmi quando potete anche sull'altro mio canale del Planeta Libre TV, voi andate, adesso è bloccato, però è lì online. Detto questo per riannudare un po' il discorso che è stato fatto anche ieri con il discorso del report di questa inchiesta che poi non è stata fatta, quindi io non voglio riprendere cose che ho già detto, andate a vedere il video di ieri, così capite il perché di quel video che ho fatto ieri. Oggi ci sono tante notizie, oggi tante notizie, quindi mi raccomando, like, pollicione all'insù subito, 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 senza pensarci, iscrizione al canale con campanellina attiva, mi raccomando, e alla fine condivisione i vostri social. Riprendendo il discorso di ieri, oggi ho tante notizie da darvi, tante notizie, tanto per quanto riguarda il Milan come società, calciomercato e altre news. E tra l'altro già vi preannuncio che stasera farò uno speciale video dove parlerò dei 15 giocatori svelati da Maldini, praticamente secondo fonti che vengono dal mondo Milan, e ho fatto una bella già, una bella ricerca su questi 15 nomi con tanto di percentuale che può venire al Milan, piuttosto che da quale squadra proviene, quanto costano i loro cartellini e soprattutto la scadenza. Ho già stilato qua 15 giocatori, non ve li faccio vedere subito perché sennò finisce la sorpresa, però ne parleremo con calma nel video di stasera. Allora, dopo l'inchiesta di Report che in teoria doveva andare in onda l'altra sera, ma poi chiaramente per questioni che già sappiamo, già avevo spiegato ieri, si farà lunedì prossimo, Elliot ha risposto con le dichiarazioni di un suo portavoce il quale chiarisce la posizione del fondo americano, infatti subito dopo quella notizia che fece scalpore, che noi tutti abbiamo vissuto in questi giorni, di questo video che sarebbe stato pubblicato da Report e non è stato mandato in onda e chissà se mai lo farà. Quindi l'inchiesta che appunto metteva in discussione Elliot, la proprietà del Milan, ha riportato una dichiarazione proprio da un portavoce di Elliot, nel quale dice Elliot Associated LP e Elliot International LP hanno congiuntamente il completo controllo della holding a cui fa capo AC Milan. Elliot detiene il 96% del club, mentre la restante quota è di pertinenza dei nostri partner. Una conferma ufficiale importante appunto che viene da Elliot, il quale poi aggiunge attraverso il suo portavoce, Elliot è pienamente impegnata a riportare il Milan ai vertici del calcio europeo, facendo leva sui principi di stabilità finanziaria e corretta supervisione. Ora già saldamente in atto, Elliot ha finanziato il percorso di rilancio della AC Milan negli ultimi anni con oltre 600 milioni di euro investiti nel club. Quindi con questa risposta ha messo a tacere eventuali voci o teorie complottiste di quei mezzi di distrazione di massa che sono le televisioni e non certo le web. I veri negazionisti sono loro, perché sono i negazionisti della verità e ve l'ho detto più volte, chi segue la televisione sta seguendo negazionisti. La verità la trovate nel web e ve lo sto dicendo da tanto tempo, in tante questioni. Ma passiamo poi a questa spinosa situazione che riguarda il nostro turco Akan Cialanoglu. Continuano a trattare, però sembra che si stiano creando un po' di manumori anche all'interno proprio dello spogliatoio per questa situazione. Le parti sembrano essere distanti, per quanto il Milan stia lavorando per cercare di raggiungere un accordo. La gente del turco si è fermato ai 6 milioni, il Milan non ha avanzato ai 3 milioni e mezzo, probabilmente ha messo anche dei bonus per quanto riguarda questa trattativa, però al momento per il numero 10 chiaramente le richieste sono troppo alte, 6 milioni all'anno e ne abbiamo parlato in questi giorni in lungo e in largo. Poi un'altra notizia che arriva dal campioncino in erba, il nostro caro Tommaso Pobega che sta facendo molto bene allo Spezia e allo stesso tempo anche con l'Under 21, tanto è vero che lui ha ribadito in più occasioni anche in un'intervista rilasciata ieri, voglio tornare in rosso-nero, però attenzione a un piccolo cavillo che è uscito fuori proprio dall'intervista. Da bambino ero tifoso della Juventus, tanto è vero che in un Cagliari Juve che fu giocato a Trieste, lui faceva da raccattapalle e il suo giocatore preferito era Bastian Schweinsteiger, il tedesco che tutti conosciamo. Gli piaceva molto come si muoveva in campo, tra l'altro biondo come lui e niente, a parte questo difetto di fabbrica dell'essere stato Gobbo, comunque dobbiamo assolutamente far sì che questo ragazzo, se non sarà a gennaio, possa ritornare in giugno al nostro Milan. Ma poi ragazzi, attenzione perché a noi ci parlano del Milan con i nostri problemi, Pioli, Murelli che sono positivi, dovrà andare a buonare in panchina, ma attenzione che anche gli azzurri del Napoli sono belli incerottati, infatti ci sono nuovi guai anche per Ringio Gattuso. Sembra che il Napoli, a parte il caso di Isai che anche lui è positivo al Covid, ci sono dei problemi tanto per Ozyman che a rischio di presenza proprio domenica, ma attenzione perché anche Bakayoko è stato trovato con febbre alta ed in forte dubbio per domenica, così come Ospina. Quindi ragazzi, anche noi non è che ci dobbiamo preoccupare più di tanto, ognuno in questo momento storico, poi con questa farsa dei tamponi, un giorno per... avete visto Elon Musk? Musk praticamente ha fatto quattro tamponi in due giorni, due positivi negativi. Stesso lui comunque sta andando contro questa cosa, dicendo che è tutta una buffonata. Vabbè, ancora c'è purtroppo gente che ci crede, mi spiace per voi, per chi ci crede. Poi, per quanto riguarda il fronte Real Madrid, abbiamo dei contatti con il Real per quanto riguarda la decisione su Brahim. Il Milan vorrebbe mettere una clausola, se è possibile, per lo meno di un altro anno di prestito per il nostro talentino e allo stesso tempo con un'opzione di riscatto e eventualmente un contro riscatto da parte delle merenghe. L'ambiente sembra propenso, anche per quanto riguarda il Real Madrid, a entrare in questi tipi di trattative. Addirittura è uscito fuori un'altra volta il nome di Mariano Diaz come possibile sostituto, se non fosse Luca Jovic, per gennaio per essere il vice Ibra. Diciamo che i contatti con la società della capitale di Spagnola sono continui e costanti, la relazione tra le due società è ottima e quindi si può anche ben sperare con un fumata bianca da questo punto di vista per il nostro bravi Im Diaz, il quale però non vuole scartare del tutto un ritorno, e come no, lo posso immaginare, al club più titolato del mondo, che è in questo momento il Real Madrid. Anche in questo caso vedremo. Poi per concludere, notizia che riguarda il carissimo ungherese Zobo Slai, che noi tutti penso vogliamo nelle file del Milan. Sappiamo che la sua clausola recissoria di 25 milioni, ma attenzione che il suo agente ha appena dichiarato che non è un segreto il fatto che si stia avvicinando, proprio parole del suo agente, il momento di lasciare il campionato austriaco. Sta dimostrando il mio assistito ogni settimana di essere a grandi livelli, tanto in campionato come in Champions che in Nazionale. E quindi sicuramente il prossimo passo sarà verso una società che abbia un prestigio anche a livello internazionale. E perché no? Non potrebbe essere il Milan? Niente ragazzi, quindi vi aspetto oggi pomeriggio, in serata più o meno verso le 6, le 7, per il prossimo video dove parlerò appunto di questi 15 nomi appetibili sull'agenda di Paolo Maldini. Parlando anche appunto delle percentuali di un possibile arrivo del Milan, i loro costi, da dove vengono la loro nazione e soprattutto quando vanno in scadenza. Detto questo ragazzi dal vostro marietto milanista, sempre col mio cuore rosso-nero, mi raccomando like, iscrizione al canale con campanella attiva e condivisione nei vostri social del mio video. E niente, ci vediamo più tardi, sempre Forza Milan, ovunque e comunque, e buona giornata. A dopo, ciao!